Ma come si è truccata Laura Chiatti per andare alla Fashion Week? Sicuramente dalla fretta, al posto di mettere il rossetto, ho applicato della carta pesta sulle labbra. Questo succede quando hai le labbra aride come il Sahara, ma vuoi comunque un effetto matte applicando una tinta o un rossetto opachi. Quindi sarebbe sempre bene andare o a preidratare o a idratare successivamente. Soprattutto perché così il rossetto andrà a dissolversi in modo uniforme senza lasciare barrature o segni. Fate bagaglio di queste nozioni e ci vediamo al prossimo capolavoro!